Buongiorno amici, eccomi qui con un video brevissimo semplicemente per invitarvi a un'iniziativa locale nel Parco Nazionale del Pollino che è Donne Borghi. Donne Borghi nasce dalla collaborazione di più partner come capofila via l'Associazione di Turismo Responsabile Associazione Culturale Terrain Tour in collaborazione poi ovviamente con il Comune di Laino Borgo, la Proloco di Laino Borgo e poi altri partner che comunque ci aiuteranno nella promozione di queste iniziative e di questo territorio. Donne Borghi non è altro che un'iniziativa volta a mettere in evidenza oltre che le caratteristiche dei borghi ma anche il ruolo delle donne all'interno dei borghi. Quindi il ruolo all'interno della comunità, il ruolo della donna nel tramandare le tradizioni e allo stesso tempo riuscire in un certo senso a mettere anche in evidenza l'antico con il contemporaneo. Vi aspettiamo il 25 giugno alla Laino Borgo, inizio più o meno tour esperienziale intorno alle 15.30. Tutti possono partecipare, l'evento è gratuito e tutti ovviamente devono prenotarsi. Come? Innanzitutto potete seguire tutte le pagine online che esistono sia su Instagram che su Facebook di Terra & Tour, sulle pagine Viaggi del Milione e nell'eventualità anche sull'altra mia pagina, Maria Francesca Milione Marketing Territoriale. Lì potete reperire tutte le informazioni necessarie ma soprattutto potete anche avere recapiti per potervi prenotare. In qualunque caso io in questo breve video ve lo ricordo potete scrivere su WhatsApp al numero 3382377549. Vi aspettiamo il 25 giugno a donne e borghi. Ciao!